Erika Alfridi, Anna Rita Sidoti dopo 30 anni riesce a riunire la collettività di San Giorgio in una gara molto importante. Cosa si prova a venire sui luoghi dove lei si allenava insieme ad Anna Rita Sidoti e quale emozioni suscita questa giornata? Beh, un'emozione forte perché io vengo qui da quando avevo 17-18 anni, ancora prima di entrare in nazionale venivo a gennaio a marciare con lei e poi ho continuato per tutta la mia carriera a tornare perché la Sicilia è bella ma perché c'era un bellissimo rapporto di collaborazione con Anna e quindi tornare in queste strade ma soprattutto tornare a vivere perché io questa notte sono stata con la famiglia di Anna, con le sorelle, con la mamma io sono la quinta figlia quindi è un'emozione molto molto bella. Parliamo un po' della gara di oggi dal punto di vista tecnico, voi atleti sicuramente ne sapete più di noi magari ci può raccontare cosa sta succedendo mentre gli atleti corrono? Ma il percorso è molto bello, è una gara anomala nel senso che solitamente le donne fanno una 20 si tende ad allungare questa distanza, io credo che sia un aspetto positivo in questo in un momento dove giustamente in tutti gli sport gli uomini e le donne fanno le stesse distanze. Trovo che tecnicamente la gara sia molto bella perché il percorso è bello perché a volte ci si trova quando si marcia non è come correre, ci vuole un percorso piatto, ci vuole una certa metratura ho trovato un percorso molto bello e una qualità tecnica molto importante. Secondo lei si potrebbe raggiungere un risultato, un record su questa pista? Sia dal punto di vista emotivo, l'atleta che corre potrebbe dare quel quid in più per raggiungere i risultati? Mi chiedi una cosa troppo forte perché bisogna conoscere, siamo a gennaio, è un periodo per i marciatori gennaio è un periodo di preparazione perché considera che gli atleti puntano al grande evento che sarà ad agosto quindi gennaio essere già in grande forma implica che il grosso appuntamento Potrebbe essere il posto giusto per tentare? Potrebbe, potrebbe, dipende dalla programmazione che ogni atleta ha fatto perché si può anche puntare ad avere un grande picco a gennaio, scendere un attimo e risalire per il grande evento però questa è una cosa, non conoscendo tutti gli atleti è una cosa che non si può prevedere